29 milioni di euro per finanziare i piani di investimento contro la denatalità, lo spopolamento dei luoghi, le solitudini involontarie e l'invecchiamento della popolazione. L'assessorato regionale alla famiglia e alle politiche sociali ha pubblicato un'avvisa a Sportello stanziando delle somme a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione con il residuo 2014-2020 e anticipazione 2021-2027. Si permette così di recuperare edifici pubblici e allo stesso tempo di fornire servizi che sono destinati ai bambini, adolescenti e anziani. L'avvisa è rivolta ai comuni siciliani che vogliano, anche in forma associata, attivare interventi infrastrutturali sistemici e integrati con i relativi servizi in favore della famiglia. In nuove infrastrutture o recuperando quelle esistenti, dichiara l'assessore regionale alla famiglia e alle politiche sociali Antonio Scavone, raggiungendo il duplice obiettivo di accrescere il welfare dei territori a maggiore rischio di spopolamento e contrastare il deterioramento degli edifici pubblici spesso inutilizzati o sottutilizzati. Con questa iniziativa prosegue, intendiamo imprimere un cambio di passo sul tema dei servizi all'infanzia e all'adolescenza e alle persone che vivono situazioni di fragilità, innalzando l'offerta capillarmente su tutto il territorio regionale. Gli interventi ammissibili riguarderanno infatti sia la realizzazione di nuovi edifici che l'adeguamento, rifunzionalizzazione e ristrutturazione di quelli pubblici esistenti, prevedendo una premialità nel punteggio per gli immobili confiscati dalla mafia o appartenenti a IPAB e non utilizzati, con l'obiettivo di attivare servizi per la prima infanzia per la fascia di età 0-3 anni, centri di aggregazione per minori dei 4 ai 18 anni, strutture di urne per anziani o persone con limitazione nell'autonomia, o ancora consultori familiari e case famiglia per donne vittime di violenza e in situazioni di fragilità. I comuni interessati potranno presentare le istanze tramite PEC entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e saranno ammesse le istanze in ordine cronologico rispetto alla data di avvenuta consegna, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria estanziata.